Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi su Instagram e vi ricordo che sono attiva anche su Facebook, vi lascio il link nell'info box. Detto questo, andiamoci dentro col video. Quando i segreti oscuri sono improvvisamente rischiarati da una luce che non si può reprimere, a volte il dramma è in agguato. Brenda Powell nasce il 19 marzo 1969 a Salem in Ohio. Frequenta l'università ad Econ, si laurea e inizia a lavorare come specialista dell'infanzia presso l'unità di ematologia oncologica dell'Akron Children's Hospital. È compito di Brenda assistere i bambini malati e le loro famiglie per guidarli lungo il percorso del trattamento ospedaliero. Lei svolge questo compito con grande generosità e pacatezza. Si occupa di istituire il programma di supporto oncologico dell'ospedale e pianifica alcune attività che coinvolgono le famiglie, incoraggiandole a festeggiare anche per le più piccole vittorie che i bambini conquistano durante le cure. Si inserisce nelle dinamiche che regolano i rapporti tra i suoi pazienti, formando legami autentici che potrebbero durare tutta la vita. È amata dai suoi pazienti e dai suoi colleghi allo stesso modo. Nel novembre del 1996 Brenda sposa Stephen Powell. Si sono conosciuti tramite un amico in comune che collabora con Brenda in ospedale. Durante il loro matrimonio, che durerà 24 anni, mettono al mondo due figli, una bambina di nome Sydney e un bambino di nome Andrew. Sydney ama molto lo sport, gioca a calcio fino a quando riesce a camminare da sola sulle sue gambe e smette all'ultimo anno di liceo. Brenda assiste a tutte le partite di Sydney per tifare per lei a bordo campo. Sia Stephen che Brenda sono dei genitori amorevoli. Mettono i figli e i loro rispettivi bisogni al primo posto, come è giusto che sia. Stephen, Brenda e tutto il resto della famiglia guardano ogni domenica la partita di football, anche se Brenda non è mai stata una partita di questo sport. Infatti, quando Sydney cresce, le due preferiscono andare a fare shopping, mentre padre e figlio continuano a seguire le partite ogni domenica. Brenda e Sydney hanno un legame davvero confidenziale e passano molto tempo insieme. A dirla tutta, Sydney è anche un'ottima studentessa, infatti dopo il diploma inizia a frequentare la Mount Union University, contando su una borsa di studio. Durante questo periodo, una delle sue amiche più care diventa la sua compagna a distanza. Poi Sydney si unisce anche a una confraternita, insomma, le cose per lei vanno davvero alla grande. Chi la conosce, la descrive come una ragazza carismatica e socievole. Completato il suo primo anno da matricola, Sydney si gode le vacanze estive, uscendo con gli amici o facendo shopping. Ma dopo questo periodo spensierato, le cose purtroppo prendono una brutta piega nell'anno successivo. Secondo la sua compagna a distanza, durante il primo semestre del secondo anno, quella autunnale, non accade nulla di allarmante. Poi però Sydney le dice che si sarebbe trasferita dal campus perché vuole prendersi un po' di tempo per se stessa. La sua compagna a distanza non capisce l'esatto motivo dietro questa decisione, ma presto emerge che Sydney è rimasta indietro con gli esami universitari. Infatti, durante il primo semestre, l'accademia aveva cominciato a tenerla sotto controllo. La speranza è che Sydney si impegni a fondo per migliorare i propri voti, ma questo purtroppo non succede. Anzi, viene imbocciata in tre materie su quattro durante l'intero semestre. Di conseguenza, Sydney riceve un avviso critico. Viene espulsa dall'Ateneo, ma ha la possibilità di presentare nuovamente domanda dopo la fine del semestre primaverile. L'avviso viene restituito firmato da Sydney, quindi lei sa di certo che deve andarsene. Nonostante ciò, all'inizio di gennaio del 2020, quando il semestre primaverile rincomincia, Sydney continua a comportarsi come se tutto fosse nella norma. Continua a partecipare alle riunioni della confraternita, soggiorna nel dormitorio con la sua compagna a distanza. Va in giro per il campus dicendo ad amici e conoscenti che sarebbe andata a lezione quando non può farlo, visto che è stata espulsa. Tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio, una funzionaria dell'Ateneo di nome Michelle Gaffney incontra Sydney personalmente per comunicarle che non è più la benvenuta all'università. Deve fare le valigie e lasciare il dormitorio, dato che il suo accesso con la chiave magnetica sarebbe stato disabilitato. Si offrono anche di aiutarla con il trasloco e anche di parlare con i suoi genitori di quello che sta succedendo. Sydney però rassicura il personale del college e sostiene che se ne sarebbe andata presto, che i suoi genitori sono a conoscenza degli sviluppi e la stanno aiutando. Questa però è una bugia. Sydney non vuole che la sua famiglia scopra che è stata bocciata ripetutamente. Quindi, invece di essere onesta e ammettere cosa è successo, racconta loro che va tutto bene, che i suoi voti sono buoni. Dopo l'espulsione ufficiale, Sydney se ne va dal campus, ma non torna a casa. Dalla metà alla fine di febbraio soggiorna in diversi alberghi, il 25 e il 26 febbraio per notte in un Comfort Inn Hotel e qualche altro giorno a Red Roof Inn. Paga in contanti questi soggiorni, in modo da non far apparire le spese sugli estratti conto della sua carta di credito. In questo periodo Sydney trascorre molto tempo al computer, fa numerose ricerche su Google su come fare soldi in fretta per permetterse di continuare a vivere negli alberghi. Ma durante questo periodo, quando le sue risorse scarseggiano, talvolta rimane a dormire da alcuni amici. Nel frattempo Sydney continua a mandare a sua madre dei messaggi riguardo all'università, facendole credere che frequenta ancora le lezioni. Le parla dei corsi che sta seguendo, di ciò che sta facendo e che sta imparando. Ma i genitori di Sydney, Brenda e Steven, iniziano a notare un cambiamento. Spesso Sydney non si trova all'università come dovrebbe essere e loro lo sanno grazie a un'applicazione installata sul cellulare che usa tutta la famiglia chiamata Life360. Questa è un'app di localizzazione GPS che molte famiglie usano per tenere traccia dei propri figli, assicurandosi che siano al sicuro e che si trovino dove dovrebbero essere. Tutti i membri della famiglia Powell hanno installato quest'app sul telefono, quindi Brenda e Steven possono vedere dove si trova Sydney e viceversa. A fine febbraio del 2020, Brenda, mentre è al lavoro, manda un messaggio a sua figlia dicendole che ha ricevuto una notifica dall'applicazione, la quale mostra che Sydney non era andata all'università per tutto il pomeriggio, ma era rimasta a casa. Sydney, infatti, è stata costretta a tornare dai genitori perché ha esaurito i soldi per spostarsi da un albergo all'altro. Dunque, Brenda le chiede come mai non è in classe. Sua figlia le risponde che ha tutta la settimana libera, dato che la sua insegnante è andata fuori città con il marito, ma ha lasciato agli studenti un foglio di lavoro da compilare nel frattempo. Le due continuano a parlare delle lezioni, ma sembra che Brenda si stia insospettendo. Infatti, quello stesso giorno, Brenda manda un altro messaggio a Sydney scrivendole. Perché ho la sensazione che mi stai prendendo in giro? Ricordati che hai bisogno di buoni voti per mantenere la tua borsa di studio. Sydney risponde, sì, lo so, i miei voti sono buoni. Grazie. Il 2 marzo la ragazza manda un messaggio a sua madre dicendole che le lezioni sarebbero finite entro le 14.30, quindi sarebbe andata a casa di un'amica per guardare The Bachelor, un reality show statunitense. Nello stesso momento manda dei messaggi anche alla sua amica per organizzarsi, comportandosi ancora una volta come se frequentasse tuttora l'università. Quando Sydney e le sue amiche si incontrano per guardare il reality, sembra che tutto sia a posto, lei si comporta come al solito, è felice e frizzante. Tuttavia, c'è un'altra cosa di cui i suoi genitori si accorgono. I soldi per la retta universitaria non vengono mai ritirati dal conto corrente bancario di suo padre Stephen, che le aiutava a pagare le tasse accademiche. La mattina del 3 marzo Stephen è al lavoro quando usa il computer per accedere al portale di pagamento dell'università, in modo da pagare le tasse di Sydney, ma non riesce più ad accedere al portale. Prova a chiamare Sydney poi l'università per valutare come sistemare le cose, ma prima dà un'occhiata all'app di localizzazione e si rende conto che, anche in questo caso, la figlia non è al college, bensì a casa. Stephen ormai è certo che qualcosa non va, dunque intorno alle 11 di quella mattina lascia il lavoro per tornare a casa e parlarle. Lascia tra l'altro di proposito il telefono al lavoro, in modo che Sydney non possa vedere i suoi movimenti tramite l'applicazione, venendo a sapere che sta tornando a casa. Stephen giustamente non vuole darle la possibilità di scappare, vuole parlarle e lo vuole fare seriamente. Quando torna a casa affronta la sua figlia e quest'ultima gli confida che non sta andando bene all'università, che in realtà non le piace. Stephen rassicura Sydney e le dice che avrebbe raccontato a Brenda l'accaduto e poi avrebbero parlato tutti insieme per trovare una soluzione. Le concede di prendersi un po' di tempo libero dallo studio e di trovare un lavoretto estivo per mettere da parte un po' di soldi prima di tornare all'università durante il semestre autunnale. Dopo questa conversazione Stephen torna al lavoro. Non ha voluto mostrare a Sydney quanto fosse frustrato. In realtà questa situazione lo turba particolarmente e dunque una volta tornato al lavoro manda un messaggio a Brenda spiegandole ciò che ha appena scoperto. Decidono che Brenda sarebbe tornata a casa e avrebbe parlato con Sydney per sistemare la situazione con calma. Brenda chiama anche l'università per discutere della posizione di Sydney, ma inizialmente non riceve risposta, quindi lascia un messaggio vocale chiedendo di essere richiamata. Questo viene ascoltato dai funzionari accademici Michelle Gaffney e John Frazier. Passa circa un'ora, Brenda lascia il lavoro e torna a casa per parlare con sua figlia del problema. Michelle e John la richiamano intorno alle 12.36 e Brenda in quel momento sta parlando con Sydney. Brenda sembra calma quando risponde al telefono, tuttavia mentre dialoga con i funzionari accademici, questi ultimi sentono un urlo e poi sei o sette tonfi susseguirsi l'uno dopo l'altro. Infine cade la linea. Michelle e John, preoccupati, provano a richiamare Brenda più volte, ma la donna non risponde. Poi alle 12.40 qualcuno risponde alla telefonata e si presenta come Brenda, ma loro sanno che non può essere lei, ci hanno appena parlato e aveva un'altra voce. È Sydney che si spaccia per sua madre, quindi, come è giusto che sia, glielo fanno presente. Sappiamo che sei tu Sydney e di nuovo la chiamata viene interrotta. Michelle e John sono preoccupati per Brenda, così contattano il dipartimento di polizia di Aiken per chiedere di andare a fare un controllo a casa dei Powell. Il capo della polizia di Aiken conosce la famiglia Powell, è amico di Brenda e Steven, quindi quando scopre che delle pattuglie stanno andando lì, chiama Steven per verificare se va da tutto bene. Steven reagisce alla chiamata confuso e sorpreso, non è a conoscenza di alcun problema grave, sa che Brenda e Sydney sono insieme a casa mentre lui è al lavoro. Così, quando conclude la chiamata con il capo della polizia, Steven prova a chiamare la moglie e la figlia, ma ogni volta che telefona a Brenda parte la segreteria telefonica, cosa che inizialmente succede anche quando contatta Sydney, tuttavia alla fine la ragazza risponde. Steven le chiede cosa c'è che non va e Sydney gli risponde che è tutto a posto, sua madre è al telefono, ecco perché non risponde. Ma Steven insiste perché sa che sta arrivando la polizia e allora Sydney inizia a piangere e dice a suo padre che in effetti si è verificata un'effrazione in casa. Poi la chiamata, di nuovo, si interrompe bruscamente. Quando gli agenti arrivano sul posto, Sydney apre loro la porta e racconta di questa effrazione. La ragazza è ricoperta di sangue, piange istericamente e cerca di spiegare che sua madre è ferita. Dice che c'è sangue ovunque. Il rapinatore era entrato in casa e aveva iniziato ad aggredire Brenda, la quale aveva detto a sua figlia di andarsene il prima possibile. L'ufficiale intanto scorta Sydney fuori di casa, la quale gli spiega di aver sentito il rumore del vetro di una finestra che veniva infranto. Allora sua madre gli aveva detto di scappare, cosa che lei aveva fatto. Ma poi, quando era tornata a casa, aveva scoperto che sua mamma era rimasta ferita. Gli agenti danno un'occhiata in giro. Vanno sul retro della casa e li trovano Brenda sdraiata sulla schiena e coperta di sangue. Sta per morire. Per terra, accanto a Brenda, individuano una padella di chisa e un coltello da bistecca. Quando la polizia si addentra nella casa, scopre che c'è una finestra rotta, ma già coperta di sangue. Il che è strano. A questo punto i primi soccorritori caricano Brenda sull'ambulanza e la portano d'urgenza in ospedale, sperando di riuscire a salvarle la vita. Ma, purtroppo, la donna muore poco dopo a causa delle ferite riportate. Dopo essere arrivata in ospedale, si scopre che Brenda ha subito numerosi colpi alla nuca. Era stata pugnalata almeno 23 volte. Ed era stata colpita così forte che il cuoio capelluto si stava separando dal cranio. Alcuni rapporti dicono che le coltellate in tutto sono 30, inferte soprattutto al collo. Inoltre, Brenda presenta lesioni multiple come taglie e contusioni ai polsi e alle braccia, i quali dimostrano che aveva provato a combattere contro il suo aggressore. Il medico legale, in conclusione, stabilisce che Brenda è morta a causa di molteplici ferite da corpo contundente e tagliente. Dopo aver indagato sulla scena del crimine e aver scoperto cos'è successo a Brenda, gli investigatori si rendono conto che la storia di Sidney non regge. Durante i test, tanto per cominciare, scoprono che il sangue sulla finestra rotta appartiene a Brenda e che Sidney riporta delle ferite su tutte le mani. Inoltre, come detto, era coperta di sangue. Sangue di sua madre Brenda. È chiaro per gli investigatori che Sidney, in qualche modo, è coinvolta nell'omicidio di sua madre. Il sangue di Brenda, presente sia sulla padella che sul coltello trovato vicino al suo corpo ferito, evidenzia che entrambi questi oggetti sono stati usati per ucciderla. Dunque, in base agli indizi rinvenuti sulla scena del crimine, la polizia decide di portare Sidney in centrale per sottoporla a un interrogatorio. Se ricordate, la prima volta che Sidney ha parlato con la polizia, stava piangendo istericamente. Tuttavia, dopo che è stata portata fuori casa, è rimasta immobile. Una volta salita sull'auto della polizia, è rimasta in posizione fetale. Sembrava immersa in uno stato catatonico e si rifiutava di rispondere alle domande. A questo punto, la polizia scopre tutte le bugie che la ragazza ha raccontato. Era stata cacciata dall'università e aveva mentito non solo ai suoi genitori, ma a tutte le persone che conosceva. Non voleva deludere chi le stava vicino. Ecco perché non aveva detto a nessuno cosa stava realmente succedendo. La polizia ora sospetta che sia stata proprio lei a uccidere sua madre. Ecco perché Sidney viene arrestata e accusata dell'omicidio di Brenda. A processo la ragazza si dichiara non colpevole perché non in grado di intendere di volere. A questo punto, questo caso si svolge completamente in un'aula di tribunale. Viene infatti affermato che Sidney ha seri problemi di salute mentale da una vita. Infatti negli anni le erano state diagnosticate diversi disturbi e il giorno dell'omicidio sarebbe esplosa la sua pazzia. Ecco perché aveva ucciso sua madre. In realtà lei non aveva realmente idea di quello che stava facendo in quel momento. Di conseguenza Sidney viene valutata da diversi professionisti della salute mentale. Ai primi medici che la esaminano dice che poco prima dell'omicidio era nel semi interrato. Poi aveva sentito il vetro della finestra rompersi e aveva deciso di salire al piano di sopra per vedere cosa stesse succedendo. Ma era svenuta. Quando si era risvegliata, attenzione, si era ritrovata sopra il corpo di sua madre che aveva un coltello infilzato nel collo. Lei stava cercando di aiutarla in realtà. Sidney sottolinea più volte che non ricorda molto di quel giorno ma visualizza ogni tanto dei flash. Ricorda di essersi seduta sul divano per confortare sua madre. Poi aveva camminato avanti e indietro su e giù per le scale scendendo infine nel semi interrato. Desiderava tanto andarsene. L'altra cosa che ricorda è che era stata in ospedale. Durante una delle valutazioni psichiatriche dice ai medici che aveva iniziato ad accusare disturbi uditivi e allucinazioni all'età di 11 anni. E soffriva anche di una grave ansia. Era da sempre molto autocritica con se stessa. Tentava sempre di mantenere uno standard molto alto nelle sue prestazioni. Non voleva mai che qualcuno pensasse che stava fallendo o che non era abbastanza brava. Se era in ansia per un test dell'università a volte non riusciva nemmeno a leggere le domande tant'era la paura che la condizionava. Il terrore di non conoscere le risposte la portava a non fare niente. Alla fine di queste valutazioni il dottor Anthony Smartnick diagnostica a Sidney la depressione. Un disturbo schizofrenico e un disturbo da stress post-traumatico. Quest'ultimo causa degli incubi che lei gli ha raccontato. In cui appare sua madre coperta di sangue e senza vita. È il dottor Smartnick il principale psichiatra con cui Sidney ha parlato dopo l'omicidio, mentre era in attesa di processo. Un altro psicologo che si è occupato di lei è il dottor James Rayran, il quale ha diagnosticato a Sidney una schizofrenia e una depressione maggiore. Crede che Sidney abbia sofferto di allucinazioni uditive fin dall'infanzia, ma le cose erano piggiorate sempre di più nei sei mesi precedenti all'omicidio, quando aveva iniziato a perdere il contatto con la realtà. Infatti era anche stata bocciata più volte. Sidney era davvero molto critica con se stessa e l'idea che aveva della sua persona non corrispondeva alla realtà che stava affrontando al college, quindi non riusciva a gestirlo. Ecco perché sentiva di non poter rivelare a nessuno dei suoi fallimenti tutto ciò che si stava sviluppando di pari passo con il periodo di supervisione da parte dell'accademia, che ha preceduto la sua espulsione. Le persone intorno a lei avevano iniziato a intuire che qualcosa all'università era andato storto, quindi il giorno dell'omicidio, mentre Brenda apprendeva tutta la verità, a Sidney era scattato qualcosa. Aveva avuto un crollo psicotico, ecco perché non sapeva cosa stava facendo quando aveva ucciso sua madre. Dopo essere stata arrestata, Sidney ha sostenuto l'udienza per la cauzione, che inizialmente era fissata a 250.000 dollari, ma poi viene raddoppiata raggiungendo il valore di 500.000 dollari. Sidney è comunque riuscita a pagare la cauzione ed è andata a vivere da sua nonna fino all'inizio del processo. Le viene concesso di uscire perché gli psicologi e gli psichiatri che l'hanno valutata sono tutti convinti che abbia avuto un crollo psicotico il giorno dell'omicidio, ma che ora, dopo le cure, stia molto meglio. E' proprio il trattamento qui è stata sottoposta che le permette di affrontare il processo che inizia il 7 settembre 2023. Sidney Powell è accusata di due capi di omicidio. La prima accusa fa riferimento al fatto che ha provocato intenzionalmente la morte di sua madre. La seconda che l'ha messa in atto mediante un'aggressione criminale. Inoltre viene accusata anche di manomissione di prove. L'accusa spiega che le bugie di Sidney riguardo all'università hanno iniziato a crescere sempre di più, finché lei ha avvertito di non avere altra scelta se non quella di uccidere sua mamma in un impeto di rabbia. Sempre secondo l'accusa, quando è iniziata l'aggressione, Sidney ha afferrato la cosa più vicina a lei, ovvero quella padella di Giza, e ha colpito sua madre più e più volte. Quando però si è resa conto che sua madre non era morta, si è procurata un coltello per pugnalarla. Voleva essere sicura di averla uccisa. Dunque, in base a questa versione dei fatti, Sidney si è resa conto di ciò che stava facendo, visto che si è allontanata dalla scena consapevolmente per andare ad afferrare un coltello da bistecco. Ed era consapevole anche quando, dopo aver ucciso sua madre, è uscita di casa e si è diretta all'esterno della finestra per colpirla col fine di inscenare un'irruzione. Sidney ha cercato di coprire le proprie tracce, e questo dimostra che sapeva di sbagliare. L'accusa porta alla sbarra Michelle Gaffney e John Frazier, per testimoniare su ciò che hanno sentito durante la telefonata fatta a Brenda. Loro dicono di aver chiaramente avvertito che Sidney stava colpendo sua madre con la padella. Tutti i compagni di classe di Sidney riferiscono invece che, anche se lei soffriva d'ansia nelle settimane precedenti all'omicidio, si comportava come se tutto fosse nella norma. Passava un po' più tempo da sola, sì, ma era ancora la ragazza frizzante e socievole che conoscevano. L'accusa, inoltre, sottolinea che gli psicologi della difesa hanno affermato che Sidney non fosse in grado di intendere di volere durante l'omicidio, ma sostiene che altri psicologi hanno trovato le sue storie incoerenti, dunque non hanno escluso l'ipotesi di una simulazione. La paziente, quindi, potrebbe aver esagerato nel riferire i propri sintomi per fargli apparire ancora peggiori. Chiamano a testimoniare anche la dottoressa Silvia Obradovich, che afferma di aver diagnosticato a Sidney il disturbo d'ansia e dei tratti della personalità borderline. La ragazza, dunque, potrebbe essere esplosa in un attacco di rabbia dopo che la propria percezione di se stessa, già instabile, era stata messa in discussione anche dai genitori. La dottoressa Silvia sostiene che è estremamente raro sperimentare dei sintomi legati alle allucinazioni e alla schizofrenia prima dei 13 anni. Sidney, invece, ha raccontato che i suoi primi sintomi sono emersi all'età di 11 anni circa. La dottoressa non crede che questo sia vero, anzi mette in discussione il modo in cui queste diagnosi sono state condotte dagli altri medici. Dunque, non c'è modo di affermare con certezza se Sidney abbia davvero manifestato questi sintomi ben prima dell'omicidio o se fosse abbastanza informata su ciò che era necessario dire per ottenere una diagnosi di schizofrenia. Inoltre, la dottoressa dubita che Sidney abbia davvero dovuto accusare dei sintomi così allarmanti in passato, perché, a rigor di logica, qualcuno li avrebbe notati. Silvia concorda però sul motivo che avrebbe spinto Sidney a uccidere sua madre, ovvero avrebbe fatto qualsiasi cosa per non deludere i genitori, persino gesti così estremi per tappar loro le orecchie. La dottoressa ritiene possibile che la lucidità di Sidney sia stata alterata dai tratti borderline della sua personalità, ma per lei la ragazza sapeva cosa stava facendo e sapeva che era sbagliato. Infatti aveva cercato di insabbiare il tutto con una bugia. La difesa, al contrario, sostiene che Sidney soffriva di gravi problemi di salute mentale che si erano accumulati fino al fattidico 3 marzo, quando era esplosa colpendo sua madre. La difesa chiama diversi psicologi a testimoniare su ciò che hanno scoperto attraverso le valutazioni sulla salute mentale di Sidney. La testimonianza più significativa è quella del dottor James Reran, il quale spiega che la versione di Sidney di se stessa, essendo diversa dalla realtà, l'ha portata a un rifiuto estremo. Lei non voleva riconoscere la sua situazione, bensì desiderava allontanarla in ogni modo possibile. Il dottore afferma che, verso la fine del novembre del 2019, Sidney era passata dal formulare pensieri normali, per quanto molto autocritici, a partorire pensieri distorti, che erano progrediti fino a produrre delle gravi allucinazioni uditive. Queste voci le dicevano che lei era inutile, un totale fallimento e che non meritava di vivere. Quindi ciò che le sue amiche avevano percepito negli ultimi mesi non era la realtà. Forse Sidney fingeva all'esterno, ma dentro stava iniziando a precipitare. E alla fine si era ritirata in se stessa, aveva smesso di vedere gli amici e di parlare con loro. Il dottore continua a sostenere che Sidney non sapeva che cosa stava facendo durante l'omicidio di sua madre. Tuttavia l'accusa ribatte che la ragazza capiva abbastanza la situazione da adoperarsi per cercare di coprire le proprie tracce. Il momento più cruciale, secondo il medico, combacia con quello dell'effettiva aggressione. Prima dell'omicidio Brenda stava parlando con il personale del college, ma come vi ho detto, la chiamata si era interrotta. Quando i funzionari avevano chiamato Brenda, Sidney aveva risposto spacciandosi per lei. Il tutto era durato circa tre minuti. La cosa più significativa in questa sequenza temporale è stata la sua perdita di contatto con la realtà. Durante quei tre minuti Sidney è stata incapace di pensare in modo ragionevole. Poi, quando si è ripresa, ha cercato di dare un senso a quello che era successo. Di conseguenza ha pensato di dover scappare da un aggressore esterno. Lo psichiatra sostiene che il caso di Sidney è davvero unico, perché i fattori di rischio normalmente associati a certi problemi di salute mentale, come traumi infantili, storie di violenza o di sostanze, sono del tutto assenti nel vissuto di Sidney. Tuttavia, lo psichiatra crede che l'episodio psicotico di Sidney si è iniziato quando il rettore dell'università le ha detto che doveva lasciare il dormitorio. Durante i soggiorni in hotel la ragazza era diventata sempre più paranoica. Aveva perso la cognizione del tempo e il contatto con la realtà. I membri del personale accademico hanno testimoniato che Sidney si stava già isolando quando frequentava ancora l'università. Soffriva di ansia, cosa che alcuni amici avevano capito la perseguitasse fin dal liceo. Proprio una delle sue insegnanti del liceo, Catherine Milligan, docente d'inglese, testimonia spiegando che Sidney era stata una studentessa eccezionale per molti anni. Era degna della sua stima, tanto che la professoressa le aveva scritto una lettera di raccomandazione per agevolare il suo ingresso all'università. Ma in un'occasione Sidney era andata da lei angosciata, in lacrime, dicendole che non riusciva a vedere perfino i numeri. Stava studiando duramente per un test da sostenere di lì a poco ed era così tormentata ad avere la sensazione di non sapere neanche più leggere. Così la signorina Milligan aveva accettato di sottoporla alla verifica in una data successiva. Tuttavia questo evento non era mai stato segnalato all'amministrazione della scuola perché l'insegnante non pensava che fosse una condizione così grave da collegarla a un problema di salute mentale. Per la difesa questa testimonianza dimostra che Sidney aveva davvero sofferto di seri disturbi di salute mentale fin da quando era adolescente. Anche la nonna di Sidney testimonia il processo quando sua nipote era stata rilasciata su cauzione. Era infatti andata a vivere da lei nella sua fattoria. La nonna riusciva a prendersi cura della ragazza dato che era in pensione, aveva modo di stare con lei 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Secondo sua nonna Sidney è migliorata molto, si è abituata alla routine e ha iniziato a parlare di più con maggiore espressività. Da quando le erano state diagnosticate la depressione e la schizofrenia i medici le avevano prescritto l'Abilify, uno psicofarmaco utilizzato nel trattamento dei disturbi psicotici, del disturbo bipolare e come terapia aggiuntiva del disturbo depressivo maggiore. Sidney in tutto ciò si era dimostrata molto responsabile, infatti assumeva la medicina con la puntualità di un orologio svizzero. Anche il padre di Sidney, Stephen testimonia, parla delle bugie raccontate da sua figlia, del fatto che ormai l'avevano scoperta, infine ripercorre la cronologia degli eventi del 3 marzo 2020, quelli che hanno portato all'omicidio di sua moglie. Sostiene tra l'altro che Sidney e Brenda avevano davvero un bel rapporto, secondo Stephen sua figlia ha ucciso la mamma perché aveva dei seri problemi mentali, si è sentita messa all'angolo ed è scattata, quindi lui crede alla versione della difesa. Durante il processo Sidney è sconvolta, piange tutto il tempo, sembra sinceramente dispiaciuta per ciò che ha fatto. Dopo 7 giorni di udienze, il 18 settembre 2023 l'accusa e la difesa fanno le loro dichiarazioni conclusive. Ora il verdetto è nelle mani della giuria, che delibera per oltre due giorni prima di emettere la sentenza. Il 20 settembre 2023 la giuria ritiene che Sidney Powell è colpevole di tutte le accuse, inclusi due capi di imputazione per omicidio, uno di aggressione e uno di manomissione di prove. Quando viene letto il dispositivo, Sidney è incredula e continua a piangere istericamente. Una settimana dopo, Sidney viene condannata a un minimo di 15 anni per l'accusa di omicidio e a tre anni per le altre accuse, da scontare nel medesimo tempo. Quindi, tra 15 anni, Sidney potrà chiedere di ottenere la libertà vigilata. Il giudice è stato particolarmente clemente con lei perché tutti i cari di Sidney e i suoi amici hanno scritto numerose lettere chiedendo una pena più indulgente, certi che la ragazza avesse gravi problemi di natura mentale. Trovo che questo caso sia parecchio interessante e non mi aspettavo un epilogo del genere, sono onesta. Tuttavia, credo anche io che Sidney avesse davvero dei problemi dal punto di vista mentale, soprattutto perché anche la sua insegnante del liceo, con quella testimonianza, ha svelato un momento in cui la ragazza era in seria difficoltà. Io ho finito di parlare in questo video e sono davvero, davvero curiosa di sapere qual è la vostra opinione, perché io ho visto il processo, le varie udienze e Sidney mi è sembrata davvero pentita. Non c'è un momento in cui è tranquilla, piange sempre, ha questa faccia sempre molto dispiaciuta e quindi secondo me davvero non si è resa conto di quello che stava facendo. Era davvero terrorizzata di deludere le persone che tenevano a lei e purtroppo io non sono riuscita a capire se i suoi genitori le hanno messo tanta pressione o se era lei a mettersi della pressione addosso da sola, insomma, perché magari voleva essere la più brava, la migliore. Tuttavia, credo che se Sidney ha iniziato ad avere i sintomi della schizofrenia, che non è proprio una cosa leggera, a 11 anni, insomma, trovo assurdo che i suoi genitori non se ne siano accorti, che non l'abbiano portata da uno psichiatra o da uno psicologo che non l'abbiano fatta andare in terapia, insomma, trovo questo aspetto molto molto strano. I tuoi genitori in teoria dovrebbero rendersi conto del tuo stato mentale e se Sidney davvero soffriva di schizofrenia il suo stato mentale era molto molto compromesso. Quindi non saprei. Sono davvero curiosa di sapere la vostra opinione, quindi ci becchiamo qui sotto, come al solito, per i commenti. Io nel frattempo vi mando un bacione, vi auguro un felice nuovo anno, spero che sia iniziato nel migliore dei modi. Mi raccomando, fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate l'ulade criminale. Ciao a tutti! Ciao a tutti!